E ragazzi bentornati su Redoc e oggi vi do anche il bentornati su un video della DC Comics Oggi non parliamo di top, non parliamo di classifiche, un bel video di lore come sappiamo fare noi E oggi parliamo in particolare di un personaggio e cui informazioni sono abbastanza difficili da trovare Se magari iniziate adesso, stiamo parlando proprio di Blue Beetle Come sapete noi solitamente parliamo della lore di personaggi che magari non hanno avuto il loro spazio nel grande schermo Nel caso di Blue Beetle siamo un po' a metà perché Blue Beetle sta per avere un suo film stand alone Tra l'altro sembra anche essere, potrebbe essere il primissimo film canonico della nuova direzione di James Gunn Ma vabbè, così sono dettagli, ovviamente noi parleremo di questo personaggio nella sua interezza il più possibile ovviamente E soprattutto parleremo della sua storia nei fumetti Quindi nonostante il film stia per uscire, non sappiamo esattamente la data di uscita qua in redazione Però il film sta per uscire, ma da noi non ce ne frega niente Noi parliamo della storia canonica dei fumetti Ed è una storia abbastanza complicata perché come spesso succede all'interno dei fumetti della DC Comics Il titolo di Blue Beetle è stato attribuito a diversi personaggi nel corso della storia Cose che non vi interessano ragazzi Ora direi che possiamo cominciare Prima di cominciare direi di ricordarvi una cosa molto molto importante Lo sapete che solo il 17,5% di chi guarda i video è iscritto? Ragazzi, se seguite i nostri contenuti non potete non iscrivervi a questo canale Sappete che comunque se vi piace solo la DC, come nel caso del video di oggi Facciamo almeno un video a settimana sulla DC Comics Quindi ragazzi, mi raccomando, mi raccomando Seguiteci, seguiteci, iscrivetevi perché è importante Non vi perdete i contenuti, dai, iscrivetevi ragazzi Comunque, io direi di cominciare Cominciamo appunto a parlare non tanto dell'eroe Blue Beetle Ma per forza di cose dobbiamo parlare dello scarabeo Blue Beetle Questo scarabeo ha un nome, ok? E il suo nome è Kajida Ok? Un nome abbastanza particolare E la storia di questo scarabeo qui inizia con una civilizzazione aliena molto molto antica e molto molto potente Questa civilizzazione si chiamava The Rich, ok? Era appunto una popolazione molto potente Molto aggressiva Che millenni fa a un certo punto nella loro storia Hanno addirittura iniziato a combattere contro i Green Lantern Corps Che, come sapete, è l'organizzazione a cui appartiene anche Green Lantern Ed è un'organizzazione molto molto forte che opera in tutto l'universo Talmente forti erano questi Rich Che hanno raggiunto un pareggio con i Green Lantern Corps Il patto, diciamo, di armistizio che venne firmato prevedeva che i Rich non conquistassero più altri mondi Che è una cosa, ovviamente, che odiarono all'inizio È una cosa che gli diede molto molto fastidio Comunque questo era il patto che dovevano sottoscrivere E lo fecero, sottoscrissero questo patto Ma nel frattempo iniziarono a ideare altri metodi di conquista Che potessero non dare nell'occhio, ok? Soprattutto per quanto riguarda i Green Lantern Corps Quindi dei metodi di conquista più subdoli Difatti il piano centrale era proprio quello di utilizzare questi scarabei Delle macchine che nacquero nel settore spaziale numero 2 Che hanno una mente alveare Questi scarabei erano semplicemente delle armi senzienti Sono stati creati dai Rich Sono stati programmati da loro per obbedire alla loro razza Il piano tipico dei Rich era proprio quello di lasciare uno scarabeo in ogni mondo inabitato E poi nel momento in cui quel pianeta avrebbe raggiunto la tecnologia Una tecnologia abbastanza importante Lo scarabeo sarebbe, diciamo, stato riattivato E si sarebbe infiltrato nella popolazione nativa Popolazione che a quel punto sarebbe stata appunto senziente In poche parole, la persona entrata in contatto con lo scarabeo Sarebbe stata praticamente un infiltrato dei servizi del Rich Tra l'altro non sarebbe stato neanche un alleato da poco Perché avrebbe avuto tantissime armi a sua disposizione Tra l'altro vi ricordo anche che lo scarabeo Originariamente doveva anche modificare la mente dell'host Di chi entrava in contatto con esso Cosa che in realtà non è che succede tanto nella Terra Comunque proprio millenni fa i Rich lasciarono questo scarabeo sulla Terra Aspettando che qualcuno lo risvegliasse Che qualcuno diventasse il suo host Una cosa, possiamo dirlo, simile ai simbionti della Marvel Anche se ovviamente con cose completamente diverse Con anche il fatto che lo scarabeo è qualcosa così di tecnologico Tra l'altro, secondo la leggenda Lo scarabeo è stato posseduto anche in passato da un certo faraone Il faraone K.F. Re Che teoricamente l'ha usato per governare il suo regno Difendendo la sua popolazione contro il male Allora, c'è da dire che noi non sappiamo se questa sia la verità oppure no Cioè non lo sappiamo assolutamente Non si è mai vista una roba del genere Però quello che sappiamo è che effettivamente questo scarabeo Venne ritrovato proprio nella tomba di questo faraone E per secoli tantissime persone hanno provato a toccarlo Hanno provato a conquistarlo Ma sfortunatamente per loro non ci sono riuscite E quindi è rimasto intatto per secoli Il primissimo Blue Beetle di cui parleremo oggi Che è quello classico è Dan Garrett Dan Garrett era un archeologo Che aveva sentito le storie di K.F. Re Era talmente tanto affascinato dalle storie di questo faraone Che decise di andare da solo a cercare questo scarabeo nella sua tomba A un certo punto riesce Il primo dopo tanti anni riesce a effettivamente raggiungere questa tomba E indovinate un po' Trovò anche lo scarabeo Che stava aspettando lì per il suo nuovo host A un certo punto ovviamente Dan entrerà in contatto con lo scarabeo E lo scarabeo una volta che sarà stato toccato da Dan Gli darà i suoi poteri E sono i poteri appunto di Blue Beetle Dan Garrett di fatto è il primo eroe che prende il nome di Blue Beetle Ma come vi ho anche anticipato Questa cosa non trasforma Dan in un infiltrato dei Rich Difatti per anni, tantissimi anni Dan ha usato lo scarabeo, i poteri dello scarabeo Per combattere vari villain e vari mostri Cosa che lo rende un eroe Eroe che ha anche fatto parte della Justice League tra l'altro Prima di passare agli altri che hanno avuto questo scarabeo Io direi che possiamo parlare dei poteri dello scarabeo Intanto il Blue Beetle nonostante sia una macchina È senziente Quindi è praticamente una vita sua Difatti può anche agire da solo senza un host Quello che dona ai suoi vari host che ha avuto nel corso della storia Sono vari poteri come per esempio il poter utilizzare dei raggi laser Poter volare, poter creare quello che vogliono con i loro costumi E tra l'altro si vede proprio che il potere della Beetle Dello scarabeo è collegato all'immaginazione Mettiamola così di chi lo utilizza Proprio perché mano a mano che andiamo avanti I vari Blue Beetle sono sempre più tecnologici Ok? È una cosa che forse potrebbe farvi ricordare i Green Lantern Anche se è una cosa completamente diversa Perché i Green Lantern utilizzano dei costrutti di energia Mentre invece lo scarabeo è una macchina senziente Mano a mano che andiamo avanti Lo scarabeo diventa sempre più tecnologico Difatti adesso vediamo addirittura una intelligenza artificiale Ha un database con cui può anche intercettare i vari villain In vari criminali Può collegarsi a qualsiasi sistema di comunicazione Può guarire le ferite E soprattutto l'armatura è sempre più tecnologica Ovviamente l'armatura di Blue Beetle E la sua versatilità Armatura che diventa sempre più versatile Mano a mano che andiamo avanti con la storia È quello che ha reso questo personaggio famoso Personaggio che secondo me è ancora più famoso oggi Di quanto non lo fosse in passato Perché le prime versioni di Blue Beetle Sono le classiche versioni da eroe Golden Age Comunque subito dopo Dan La sua carriera ovviamente come spesso succede in ADC Finisce Comunque torniamo a parlare di chi ha avuto lo scarabeo Difatti a un certo punto la carriera di Dan finirà E finirà quando un suo studente Ted Kord Chiederà di fermare suo zio Dal suo piano di governare il mondo Dan sfortunatamente verrà ucciso in una di queste In una battaglia Ma Ted fortunatamente riuscirà a prendersi lo scarabeo Sperando che possa funzionare anche con lui Ovviamente non è che ne aveva esattamente idea Del funzionamento di questo scarabeo Difatti sfortunatamente nonostante gli sforzi di Ted Lo scarabeo non funzionava su di lui Ma nonostante questo Ted decide di lasciare da parte lo scarabeo E inizia a combattere come Blue Beetle Nonostante non abbia i poteri di Dan Perché voleva assolutamente portare avanti la volontà Del suo professore preferito Tra l'altro durante la crisi sulle terre infinite Ted durante una delle tantissime storie collegate a questo evento Perderà lo scarabeo Cosa che sarà molto importante Perché poi verrà recuperata in futuro Da Buster Gold Che tornerà indietro nel tempo Come al solito la classica cosa che fa lui Per cercare di riprendere questo scarabeo E lo utilizzerà non tanto per i suoi poteri Ma come una specie di batteria Per combattere un suo villain Comunque Buster Gold riporterà lo scarabeo Poi più o meno nella timeline A cui effettivamente apparteneva E lo farà riapparire poco dopo la crisi sulle terre infinite Lo scarabeo tra l'altro Sembrerà anche far rinascere Dan Che inizierà a cercare in modo quasi fanatico In modo quasi impazzito no Ted Quando finalmente i due si incontreranno Lo scarabeo comunicherà con Ted Dicendo che stava cercando per un nuovo host E che aveva appunto scelto proprio Ted Per il ruolo Però questa volta Ted Nonostante abbia finalmente L'approvazione diciamo così Dello scarabeo L'approvazione che ha aspettato per tantissimi anni Rifiuta E convince addirittura Dan Di distruggere il legame che c'è tra lo scarabeo E l'uomo E per morire in pace Perché si meritava una morte limitosa Cosa che Dan effettivamente fa Difatti lo scarabeo rimane senza host Per tantissimo tempo E anzi rimarrà proprio senza energia Senza poteri per tantissimo tempo E comunque sempre nelle mani di Ted A un certo punto però Ted dovrà affrontare Qualcosa di cui abbiamo parlato tempo fa In un video dedicato a Batman Che era Brother Eye Questo Brother Eye Questa specie di satellite Che aveva costruito Batman Che è uno dei suoi errori più grandi Nella vita di Il Cavaliere Oscuro Sparerà un raggio laser Sulla casa di Ted E questo raggio laser Porterà di nuovo in vita lo scarabeo Se tra l'altro avete visto il video Le dieci cose peggiori fatte da Batman Sapete anche che la storyline Dedicata a Brother Eye Segna anche la fine dello scarabeo Di Blue Beetle in particolare Perché cercando per un po' di indizi Per sapere Da dove cavolo arrivava questo raggio laser Arriverà da un villain Che si chiama Checkmate E lì incontrerà il suo destino Lì infatti morirà Per un colpo di pistola Fortunatamente però Ted Aveva lasciato lo scarabeo A Shazam Che ce l'aveva lui In quel momento lì Una roba vabbè così E durante alcune avventure Di questo eroe Lo scarabeo finirà A El Paso In Texas E da qui inizia la storia Di quello che secondo me È il Blue Beetle Il più famoso in assoluto E anche il più importante Ovvero Jamie Race Anche il protagonista Di quello che sarà Il film Che uscirà Comunque Jamie è uno studente Del liceo E troverà lo scarabeo Mezzo sepolto Nella sabbia Sarà molto affascinato Da questo oggetto E lo prenderà Per andare a casa Ok? Comunque se lo prenderà Per sé Quella notte Mentre dormiva Lo scarabeo Si sveglia E finalmente Con tutti i suoi parametri Completi Si attaccherà Alla spina dorsale Di Jamie E lo renderà Il nuovo Blue Beetle Comunque Per colpa di tutto Quello che è successo In questi anni Allo scarabeo Non è riuscito A modificare Anche in questo caso La personalità Di Jamie Quindi in poche parole Anche Jamie Non è stato Un infiltrato Del Rich E di fatti Utilizzava lo scarabeo Come cavolo voleva Ed era sempre Sempre fatto Una delle primissime avventure Tra l'altro Di Jamie Che è un'intervenutura Importantissima Riguarda proprio Brother Eye Difatti è proprio Il Blue Beetle Che riuscirà A sentire Dove si trovava Questo oggetto Che stava uccidendo Praticamente tutti Gli eroi Della terra E proprio grazie Allo scarabeo Un team formato Da Buster Gold Da Blue Beetle Da Batman E da Green Lantern Riescono a distruggere Finalmente Brother Eye Comunque Nonostante la personalità Di Jamie Non cambi più di tanto Per colpa dello scarabeo In realtà lo scarabeo È un'arma Quindi per diverso tempo Cercava di convincere Jamie Di uccidere i villain Di uccidere i criminali Cosa che Jamie Ha dovuto affrontare E anche una delle cose Più interessanti Secondo me Di questo personaggio Perché comunque Jamie È il classico Eroe molto giovane Perché è un ragazzo Che cerca il bene In tutte le sue forme Ecco mettiamola così E che cerca di fare Meno male possibile Ai suoi villain Questa è una delle cose Più interessanti Come ho detto di Jamie Tra l'altro Questa è una cosa Molto interessante Qua direi di andare Verso le conclusioni Di questo video Ovviamente Quando lo scarabeo Si riattiva Porta anche Un pochettino di guai Sul pianeta Terra Infatti i Rich Lo sanno E arrivano sul pianeta Terra E rimarranno incredibilmente Stupiti Non solo dal fatto Che Jamie Non è un loro infiltrato Ma anche che lo scarabeo Mano a mano Che sta con Jamie Mano a mano Che sta con i terrestri Diventa sempre più indipendente Difatti lo scarabeo Che era comunque stato Riprogrammato appunto Dai Rich Stava assumendo Una personalità sua Unica Ok Una cosa molto molto figa Anche qui E questa cosa Non va assolutamente giù Ai Rich Difatti Saranno praticamente I villain principali Del nuovo Blue Beetle Jamie cercherà In tanti modi Di sconvincere Questi Questi Rich Questa razza aliena E ci riuscirà anche Tra l'altro Durante Questi combattimenti Lo scarabeo Riuscirà anche Finalmente Ad avere La sua propria Personalità In tutto e per tutto Riuscirà a liberarsi Completamente dal suo destino Che era quello di Un macchina assassina Per la conquista E deciderà anche Di darsi un nome Che è appunto Kajida Che è il suo nome Per questo che ce l'ha In realtà Fino a quel momento lì Il suo nome era semplicemente Un numero seriale Che era proprio stato dato Dai Rich E questa ragazzi Grandi linee ovviamente È la storia Di Blue Beetle Questa volta Spero che sia stata Il più lineare possibile Perché come avete visto Alla fine si è parlato Non di tre personaggi Ma praticamente di quattro Perché abbiamo avuto Lo scarabeo Che secondo me È come se fosse Un personaggio unico Perché effettivamente Ha la sua personalità Abbiamo parlato Di Dan Garrett Abbiamo parlato Di Ted Kord E poi abbiamo parlato Di quello che secondo me È il Blue Beetle Il più importante Ovvero Jamie Race Comunque fatemi sapere Con un bel commento Che cosa ne pensate Se vi piace questo personaggio Se lo conoscevate già Per i fumetti O per qualcos'altro Comunque fatemelo sapere Con un bel commento Io direi di concludere Questo video Ricordandovi una cosa Molto importante Che questo canale È sostenuto anche Grazie al nostro store online Trovate il link In descrizione E nel primo commento E vi ricordo Come sempre Che avete il codice sconto YouTube Che potete utilizzare Una volta Al mese Quindi ragazzi Mi raccomando Utilizzate questo codice sconto E noi Ci vediamo prossimamente Con altri contenuti Del genere Mi raccomando Iscrivetevi E niente Ciao a tutti